buon pomeriggio eccoci qui ore 18 nostro appuntamento vediamo oggi che tipo di pubblico abbiamo ieri ho saputo da un po di persone che hanno provato a connettersi nella mia diretta che non sono riusciti evidentemente ormai anche ciao ciao luke like ciao intanto tutti man mano che vi state posizionando allora per quanto riguarda la cindina ti ringrazio per richiedermi la partecipazione ma oggi siamo in compagnia di un ospite ho visto che stai guardando le mie dirette ciao paolo mi fa veramente piacere perché il messaggio è quello di essere tutti su un'unica barca e di riuscirci a sostenere ci sono delle puntate in cui mi dedico in particolare al make up e a parlare grazie e a parlare chiaramente di quello che è il nostro particolare momento ma molto 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 volentieri anzi se in direct message mi lasci il tuo numero di telefono riusciamo anche a sentirci magari nel weekend mi fa veramente piacere grazie 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 invece oggi man mano che continuo a salutare le persone come vi dicevo una puntata in compagnia di una dottoressa in particolare una dottoressa che si occupa di osseopatia quindi medicina parallela e alternativa a quella tradizionale che ha diversi hobby un hobby in particolare è la particolare dedizione a quella che è la mise en place ma mise en place immagino che tutti voi sappiate però diamo comunque un chiarimento è l'arte di sapere abbellire la tavola ma perché è in questo momento così importante dare questa finestra alle persone che ci ascoltano perché in particolare marilena ci spiegherà al di là della bellezza della tovaglia di come apparecchia quindi lo stato d'animo quindi partendo da quello che è semplicemente il good vibes quindi lo stare bene in famiglia per la nostra famiglia anche capire e valutare quanto sia importante inserire specialmente in questo periodo di grande stress per tutti noi in quarantena chiusi in casa inserire all'interno dell'alimentazione l'argento colloidale e non solo chiaramente preso diciamo ingerendolo ma quello che può fare per noi invece l'argento anche quando lo usiamo passando diciamo attraverso le posate o attraverso i bicchieri e per finire terzo argomento quanto i colori della primavera anche in quelle che sono le verdure la frutta tutto quello che potremmo mettere a tavola nell'insieme della nostra quindi nella totalità della mise en place quanto può farci stare bene l'insieme dei tre elementi quindi ciao angelo amore spero tutto 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 bene e poi noi ci sentiamo perché ti sto pensando tanto anzi ragazzi nel frattempo ciao gaia nel frattempo che si collega il mio ospite vorrei dedicare qualche secondo anche a l'opportunità che ognuno di noi può avere come sicuramente stanno facendo di aiutare le persone che vogliamo bene vicino e distante che se siano angelo in particolare che origine delle marche originario delle marche angelo cruciani sta ha creato una una challenge proprio per aiutare quelli che sono gli ospedali chiaramente anche delle marche che in questo momento hanno delle difficoltà ed ecco che vedo la dottoressa russo si appresta a venire in diretta e così noi l'accogliamo ma grazie a te angelo ma grazie a te il valore umano in questo momento è importantissimo ciao marilia ciao marilena come stai io sto bene e sostanzialmente stavo anticipando al pubblico che si sta mano a mano popolando chi sei tu e quindi al di là di quella che è la tua parte che vita professionale che dedichi alla medicina quindi a tutta quella che anche l'opportunità di poter aiutare le persone non solo passando attraverso la medicina tra virgolette tradizionale ma anche passando anche attraverso altri tipi di medicina che comunque ci fanno stare bene per poi invece dilettarci nel mostrarci quella che è la tua passione quindi la realizzazione di bellissime mise en place soprattutto in questo periodo e quindi ci darei qualche consiglio per il periodo di quarantena visto che passeremo anche la pasqua chiusi però sicuramente se ci dai qualche consiglio sarà più leggero vivere questo periodo eh innanzitutto appunto al di là della mia presentazione marilena vuoi dare qualche informazione in più su di te al nostro pubblico ah allora sì sì eh io nasco come fisioterapista poi mi prendo un'altra specialità in osteopatia e eh quello che ha invece cambiato proprio la mia professione è stato rimasto alla sapienza di Roma in posturologia dove mi ha veramente aperto gli occhi che il corpo è un tutt'uno e ci sono tre elementi fondamentali per ehm mantenere il benessere oppure ritrovarlo che sono i tre elementi di biochimica la psiche e la struttura nella biochimica che cosa c'è c'è quello che noi mangiamo ma c'è anche quello che noi respiriamo e guardiamo cosa può fare qualcosa nell'atmosfera come quello che sta succedendo in questo periodo che eh anche solo respirare un virus ci può veramente costare molto caro alla salute quindi eh sicuramente nella biochimica è fondamentale per l'equilibrio del dell'essere umano ma pensiamo anche a tutto l'inquinamento elettromagnetico quindi oggi noi ci troviamo in questa in questo stato per una serie di squilibri che eh insomma io dico sempre come per pretendavamo di stare bene se il pianeta era malato questo è tra l'altro ti interrompo in questo momento perché ehm tra le tante cose che ho sentito in televisione questa frase mi risuona come qualcosa che qualcun altro anche ha riferito di molto importante ah ecco 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 brava mi sono ricordata chiaramente il papa il papa che durante la sua benedizione ha proprio detto questo come potevamo immaginare noi esseri umani di stare bene quando il nostro pianeta è completamente nella malattia brava brava ecco non sapevo che l'avesse detto anche il papa quindi è vero no no quindi insomma forse eh un po' di eh come dire ferma ci voleva no per me è importante poi sicuramente quindi nella biochimica c'è inquinamento elettromagnetico quello che noi respiriamo quindi tutto quello che c'è nell'atmosfera ma anche quello che noi mangiamo ok ok poi ci sono sicuramente la psiche in questo momento di coronavirus tantissimi avranno sicuramente potuto assaggiare me compresa anche la paura noi siamo un po' tutti sospese questa paura eh si ripercuote anche su ehm sul nostro sulla nostra necessità ad esempio di di cibo cioè ci sono delle persone che magari si attaccano al frigorifero e ci sono vari ehm video che passano no dal prima ero una Barbie dopo il coronavirus invece sono la donna cannone no in tutte cose molto e oppure invece alcune saranno invece dimagrite quindi sicuramente anche la paura quindi il nostro stato emozionale può sicuramente eh andare ad alterare quello che è il nostro benessere la nostra struttura che cos'è il nostro corpo quindi dico questi per questa è la nostra filosofia e e così poi da da questa diciamo esperienza la sapienza di Roma ho fondato lo studio MACLA dove all'interno ci sono una serie di professionisti che lavorano ma sotto forma di equip quindi il paziente viene veramente eh preso in carico e valutato a 360 gradi quindi per chi volesse Marilena seguirti eh all'interno di quella che è la competenza del tuo studio su Instagram come possono trovarti? Centro Medico MACLA Centro Medico MACLA quindi se volete continuare a seguire Marilena mi raccomando Centro Medico MACLA grazie e ovviamente ovviamente adesso mi sorgio spontaneo una domanda no? Tu che comunque eh per passione perché anche il lavoro che fai tu ovviamente di grande dedizione e questo significa avere un grande rispetto in generale nel senso della vita delle persone che popolano questo pianeta e cercare chiaramente come faccio io nel mio give love first in una eh campo che è la bellezza quindi cercando di aiutare le donne sia quelle che stanno bene sia quelle che non stanno bene migliorando sempre le mie competenze non solo quelle mie professionali ma anche chiaramente la mia linea di make up quindi andando sempre a migliorare quella che è la formula INCI immagino che in questo periodo anche tu ovviamente non potendoti più dedicare a quella che è lo studio medico e quindi i tuoi pazienti magari li starei continuando a sentire alla lontana non lo so mi viene in mente che sicuramente una persona come te non abbandona nessuno no stiamo organizzando delle delle call con i professionisti quindi avranno sicuramente presto meno esistimi pazienti assolutamente e poi invece questa nel tempo del covid come ci siamo raccontate telefonicamente qualche giorno fa quando abbiamo deciso di dar vita a questo nostro spazio insieme mi hai raccontato invece quanto è stato bello riscoprirti mamma moglie e dedicare alla tua famiglia quelle attenzioni che nella maggior parte del tempo invece ahimè quando si lavora sono più le persone esterne che godono del tuo aiuto raccontaci un po' ma guarda ti dico all'inizio ti racconto questa cosa sai che Claudio mio marito è appassionato di cucina quindi io arrivo un po' dopo di lui la sera e quindi lui si dedica ai fornelli quindi i miei figli soprattutto la piccola allegra insomma non mi vedeva come la mamma dietro i fornelli no cioè lei era convinta che non sapesse neanche fare da mangiare infatti io sono fortunata ho una zia che mi pettina un papà che aggiusta tutto e fa lo chef e una mamma che mi cura cioè questo era del suo immaginario beh sta di fatto guarda tenera veramente però insomma sono cose che ti fanno veramente riflettere cosa succede succede che poi invece mio marito che si occupa insomma lui in questa emergenza sta lavorando perché sta facendo sanificazione nelle aziende e quindi io mi sono ripresa il mio focolare domestico Valeria ti dico che la prima volta lui è bravissimo nei risotti Claudio e la prima volta che mi sono messa a fare il risotto ero emozionata ma non solo ascoltami avevo anche paura Valeria avevo anche paura perché ho detto mamma mia adesso sto a vedere che arriva subito il giudizio no mamma non sei capace mamma invece mi è venuto buonissimo e quindi però ero veramente emozionata piano piano guarda come tutte le donne penso italiane si sono messe a fare le grandi pubblicie di primavera armadi di tutto di più io in realtà non sono ancora arrivata a quello perché mi sono dovuta dedicare a delle cose burocratico una serie di cose nello studio ma ho iniziato a far da mangiare per cinque persone e c'era la colazione il pranzo e la cena e i miei figli niente hanno iniziato a vedermi in una veste nuova secondo loro no e ho fatto anche delle torte li ho coccolati poi siccome appunto per me la cosa importante non è soltanto mangio sano e sto attenta anche a presentare un piatto queste cose qua ma per me tutto il resto mi sono proprio coccolati quindi cosa che io faccio sempre però molto più velocemente loro escono presto la mattina quindi per andare all'università o a scuola tu capisci che non c'è il tempo di star lì a insomma curare il dettaglio adesso adesso io ho curato i dettagli no ma ma nel senso apro e faccio queste cose mio figlio grande di vent'anni mamma prepari anche a me la colazione cioè a voglia e una frase tipica la prima settimana ogni mezzogiorno mio figlio nicolò ventenne mi diceva a mamma ti preferisco più nella veste di di mamma che di imprenditrice pensa c'è voluto un virus per farti ritornare a fare la mamma è così poi mamma continua così è perché mi piace come mamma cioè ogni giorno mi davano sì ogni giorno mi dava una frecciatina e quindi niente quindi continuo in questa cosa mi piace l'altra cosa positiva valeria sai qual è stata cara io ho una figlia adolescente e aveva una serie di credenze nei miei confronti che pian in pianino si sono andate a sgretolare e abbiamo iniziato proprio a parlare senti non ti nego sai che mi ha truccato oggi ma mi ha truccato lei oggi mi ha detto che mi farà vedere un tutorial guarda io non mica cioè non avrei mai e poi mai pensato che Rebecca ed è veramente guarda ti dico per mi dispiace tantissimo perché c'è questo virus che purtroppo ha fatto anche insomma perdere tante vite umane purtroppo anche insomma sono morti colleghi infermieri medici e questa cosa è veramente una cosa molto molto triste dall'altra parte però io dico molto probabilmente era salutare per il pianeta ma anche per l'essere umano perché stavamo andando incontro a un'involuzione anziché un'evoluzione della nostra specie ma sai io mi sono ritrovata anche con altri personaggi altri ospiti del board talking a raccontare un po ognuno di noi la 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 visione che ne ha in questo momento perché sai bene noi al di là di questa diretta insomma ci sentiamo con una certa frequenza certo e ci scambiamo delle informazioni in questo momento direi che al di là di quello che possono essere le informazioni contrastanti che arrivano e prima una cosa e poi un'altra dalle certificazioni voglio dire dall'autocertificazione che cambia ogni due giorni a semplicemente quello che è l'aumentare del tempo della quarantena no mi rendo conto che c'è un po di in preparazione perché questo virus ancora non lo conosce bene nessuno in realtà e quindi stanno prendendo chiaramente del tempo cercando probabilmente proprio di non rendere ancora più ansiosa la situazione visto che attualmente ci sono poi anche delle situazioni non solo come dicevi tu problema salute ma da nord al sud io soltanto oggi ho visto e solo avrei sentito anche tu il caso di Varese la signora che apre la porta perché le dicono che porta la mascherina e invece la volevano derubare quindi cominciano ad esserci queste situazioni piuttosto che dal centro al sud Italia bande sia di voglio dire ragazzi stranieri sia di persone italiane che approfittano di questa situazione quindi è evidente che al di là di quanto il mondo avesse bisogno no proprio come evoluzione di ripulirsi proprio nel vero senso della parola probabilmente c'è e ci deve essere ci dovrà essere una volontà da parte degli esseri umani nel capire che questa situazione creerà un cambiamento epocale questa è la storia infine adesso noi la storia ce l'hanno raccontata perché nel vivere quotidiano noi abbiamo vissuto solo il momento della globalizzazione quindi il fatto che non esistessero più questi confini no è che quindi si potesse sentirsi si potesse sentire ognuno cittadino del mondo e invece probabilmente adesso questo sarà un periodo in cui ognuno di noi dovrà riformulare tutto questo contesto e se si vuole pensare di nuovo ad una globalizzazione bisognerà farlo non dimenticando quello che per esempio in italia è stato dimenticato per molto tempo ovvero che non si possono rubare soldi alla sanità perché quando poi arriva una catastrofe del genere ci si ritrova col problema ma non voglio fare polemiche il nostro appuntamento è un momento bellissimo le persone chiaramente d'altronde sono già esauste di sentire queste notizie le conoscono benissimo quindi il nostro compito è quello semmai di rallegrarle in questo momento e io so che tu oggi ci hai fatto una bellissima sorpresa io vi ho fatto una sorpresa però vorrei dire una cosa valeria secondo me il cambiamento fa paura a tutti è innegabile io penso però che dietro al cambiamento ci possa essere una grandissima occasione e io dico il saggio il cambiamento lo abbraccia non lo respinge e ci fa paura perché non lo vediamo perché è nuovo esatto però io sono fermamente convinta che se ognuno di noi pensasse ai propri cambiamenti nella vita e quando eravamo nella fase del cambiamento uno era come dire spaventato ma poi col vivere il cambiamento ci si è resi conto che davvero si è chiusa una porta e si è aperto un portone è vero no valeria quante volte ognuno di noi io posso dire che i miei cambiamenti le mie grandi svolte nella vita sono avvenute così e io l'ho vissuto all'inizio perché è normale nella fisiologia proprio dell'uomo viverle in questo modo come grande paura so cosa lascio anche se quello che lascio non mi sta bene ma quello che prendo mi fa ancor più paura perché non lo conosco poi in realtà dico caspita l'avessi saputo prima o qui e là ma in tantissime cose io ho un'amica che si è separata e mi ha detto l'avessi saputo l'avrei fatto prima quindi a volte davvero uno dice caspita gli spiaceva invece davvero ma così come nei lavori è il cambiamento la perdita di un lavoro potrebbe davvero essere l'occasione per fare quello che uno aveva dentro il cuore sì bisogna sempre valutare che ci sono sempre due modi di leggere le cose e che inevitabilmente questa situazione non è dato a nessun singolo di poterla cambiare ma semmai sarà la comunità e certo di quando guardiamo invece una situazione mondo alle varie comunità quindi ci dobbiamo veramente augurare che chi deve prendere decisioni per noi lo faccia sempre ogni giorno di più con coscienza quindi inutile buttare chiaramente ciao Dario e benvenute le persone che si stanno collegando quindi inutile ovviamente inveire ma capisco che c'è anche quello perché succede anche a me e credo che sia normale però ritengo come te che sia importante in questo momento fare un'introspezione valutare da questo momento in poi come ognuno di noi può ricominciare la propria vita perché sicuramente ricomincerà ancora non sappiamo esattamente in che tempi però ognuno di noi al di là di vivere le informazioni di cercare di mantenere la testa sulle spalle in questa situazione così dura e rigida può cominciare a immaginare qual è la nuova vita se nel caso in cui ci fossero persone o attività che realmente come sto sentendo in giro sono molto preoccupati alcuni costretti a chiudere insomma ci sono delle situazioni importanti però l'importante come diceva mia nonna solo alla morte non c'è rimedio brava e quindi quindi è nostro compito fino a che appunto siamo in vita fare del nostro meglio e sicuramente grazie anche ai tuoi consigli stare ancora meglio in salute no e quindi appunto tu oggi ci hai regalato delle sorprese cioè ci farai vedere quello che è nel tuo quotidiano realmente come accogli la tua famiglia in quelli che sono i tre momenti importanti visto che in questo momento si è diventata di nuovo l'angelo del focolare quindi la prima colazione la colazione e la cena no io però ho preparato solo valere ho preparato solo una tavola a due posti e solo per il pranzo la cena pensando al la colazione non l'ho fatta però se mi dai due minuti io te la faccio anche no ma va bene è semplicemente è semplicemente l'idea che ognuno può prendere in un qualsiasi momento della giornata quindi anche se non riusciamo magari ad essere bravi come te però rispetto a quello che ognuno di noi ha a casa quindi la volontà è quella di mostrare cosa si può fare dipendentemente da quello che abbiamo in casa cercando quindi di migliorare lo stato della quarantena sia con i cibi che introduciamo e sia dove li mettiamo in maniera tale che sia il gusto l'olfatto l'occhio possa godere certo no di tutto allora io ieri ho fatto fare l'albero alle mie limbe Rebecca e Allegra hanno fatto l'albero di Pasqua quindi appendendo tutte le oveste alcune cose le avevano fatte anche loro da piccole quindi le abbiamo insomma riutilizzate che fa un po' da centro tavola grande quindi adesso io vi farò vedere questo albero di Natale grazie grazie ovvero fatto Valeria con dei rami di nocciolo contorto che poi sono stati dipinti di bianco ok alla quale è tutto proprio homemade ciao Antonio benvenuto e queste meravigliose uova quindi sono proprio le classiche uova che si dipingono quindi sono delle uova vere sì 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 sono uova vere che negli anni abbiamo dipinto alcune non sono vere tipo questa piccolina qua queste qui tutte colorate vedi di rosa sono di plastica questo qui invece questo fiore l'aveva fatto Allegra alla scuola materna e niente noi l'abbiamo abbiamo fatto l'albero allora adesso si fa amici e dicatrici dovessimo non riuscire in breve tempo a truccare altre donne possiamo sempre immaginare di darci da fare in altro senso il vendere le nostre creazioni esatto allora ti faccio vedere questa tovaglia questa questa misa in place allora io faccio la raccolta di questi candelabri sono vecchi candelabri vedi fatti tutti in vetro uno di questi è bellissimo questo ha una mano non so se riuscite a prenderla lo percepiamo poco perché chiaramente c'è ok sì un pochino meglio almeno per quanto mi riguarda un pochino meglio sì 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 la vedo la vedo sono gli acquisti ai mercatini di tutto di più ne ho tantissimi in casa poi vabbè e quindi poi ci sono i lumini dell'ikea sopra queste i fiori del giardino questo diciamo che è una tavola apparecchiata vedi ho tirato fuori anche il piattino col limone visto che giallo è e pasqua e poi ho fatto questo fiocchetto non so se riuscite a vederlo con tra l'altro sì cose anche di reciclo perché questo fiocchetto era era di reciclo questi sono ecco guarda valeria questa è un'altra mia collezione i tovaglioli ricamati a mano li vedi sì li vedo e sono fantastici ma la domanda è chi è chi ha la passione per il cucito io per esempio sono negata allora io ricamo però però dico ricamavo valeria perché adesso non ho proprio tempo facevo anche gli iniziali sulle camicie a claudio e adesso faccio fatica a far tutto però ma siccome una volta no ricordo mia madre che era una grande appassionata di uncinetto maglieria cucito no ed esistevano delle riviste specializzate con i cartamodelli per fare questo piuttosto che quest'altro oggi se qualcuno delle delle donne insomma che ci sta ascoltando volesse riscoprire e mettersi in discussione provando a fare qualcosa o di cucito qual è il suggerimento da dove che si può iniziare a fare qualcosa del genere esistono delle cose online guarda questo non lo so perché appunto essendo capace non sono mai andata però suppongo di sì io mi occupa mi allora io sono andata pensa da da una dottoressa la quale mi ha insegnato proprio le basi ma in realtà avevo iniziato se non sbaglio in quarta elementare col punto croce quindi non ricordo anch'io ecco e da lì mi è nata proprio questa passione poi in realtà a me piacciono proprio tutti i punti diciamo antichi tipo non so il punto vapore punto nodini è uno delle riviste che a me ha insegnato tantissimo che mi ha dato tantissimi spunti e ho realizzato tanto è raccama ok quindi possono acquistarlo è però è bello però suppongo che online ci sia tantissimo senti valeria faremo un tutorial di ricamo ah va bene è la tua più grande scommessa sapere usare le mani non significa poi che sono brava a usarle nel fare tutte le cose no vedrai vedrai che sarei bravissima allora vediamo un po questa è una mise en place diciamo all'italiana perché le posate sono con i rebbi se voi vedete le le forchette dritte esatto ok come già tutti sapranno la forchetta si mette a sinistra e il coltello e il cucchiaio a destra i bicchieri si posizioneranno sul lato destro e poi la mise en place può essere arricchita insomma vedi io ho utilizzato questi sazzolini che sono sazzolini che non mi ricordo neanche più dove li ho acquistati che in un attimo cambiano un po la tavola hanno anche del colore si è bellissimo subito tra il colore tra questi sottopiatti turchesi anche perché chiaramente ecco lì dove riesco a trovare un trade union è proprio ciao gabriele benvenuto è chiaramente proprio l'idea del colore no come vedi anche io oggi ho messo un po di blu e perché ho messo del blu oggi sui miei occhi proprio perché sentivo la necessità di rilassarmi quindi oltre al mio viola oltre le mie ametiste avevo necessità di utilizzare un colore come il blu che è un colore che calma quindi sia vederli sia indossarli per quello che è chiaramente la mia parte del lavoro capisco che questa tavola è un po come quando io invito le donne ad usare i propri colori amici bello beh questa tavola allora è in tinta con i tuoi occhi perché guarda al sottopiatto vedi blu lo vedo con il piatto invece lo vedi con tutto un ricamo dorato qui c'è ancora un grande tovagliolo ricamato questo è divino io trovo lo vedi è bellissimo e questa mese in platte invece è apparecchiata alla francese ci sono i rebbi della delle forchette che sono al contrario vedi che questa volta guardano verso il tavolo ok prima era l'italiana francese esatto loro utilizzavano apparecchiare così perché le famiglie nobili spesso mettevano il loro stemma di famiglia monogramma dietro la posata e quindi beh queste queste posate marilena sono delle posate d'argento sono delle comuni insomma posate sono d'argento sono d'argento dopo ti spiego il perché ti faccio vedere guarda i sabri dell'ikea che io trovo divini uno fa d'appoggio a questo uovo blu guarda che bello che è bellissimo anche questo dipinto a mano no 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 questo l'ho acquistato ok questo l'ho acquistato però è fatto a mano eh non è agno è fatto a mano esatto poi vabbè se uno non ha fiori o non ha voglia è perché no due limoni in un'altatina e subito cambia e tra l'altro voglio dire poi di questi tempi tutti ci stanno invitando a diciamo aumentare le dosi di vitamina c quindi ben venga il limone mi sembra proprio che sia perfetto sai cosa il limone è anche un ottimo antinfiammatorio scusami antibiotico quindi io obbligo i miei figli perché li li obbligo a bere come come primo la mattina la mattina acqua calda esatto acqua calda con il limone esprimuto pensa che questo per un periodo di tempo era andata una dieta chi chi di voi che ci sta ascoltando si ricorda come mi ricordo io perché ricordo proprio un fotografo che ogni mattina prendeva proprio questo limone perché doveva perdere del peso e quindi era consigliato anche inizialmente proprio anche per migliorare bruciare calorie insomma quindi accelerare chiaramente è vero ma non spremuto mangiato stimola l'adrenalino mangiato bisognava mangiarlo bisognerebbe mangiarlo quindi assolutamente è un buon consiglio anche questo guarda qui c'è Mirko che consiglia anche il pompelmo va bene ciao Mirko caro senti perché mi dicevi ti devo raccontare al di là di come mettere le posate che penso che sicuramente c'è il mondo anche su sui tutorial eccetera datevi veramente date spazio alla creatività ma anche con i bambini secondo me guarda ieri hanno fatto loro questo albero e secondo me è divino e porta anche allegria perché Pasqua comunque arriverà e noi dovremo esatto e staremo in casa e quindi dovremo coccolarci insomma allora l'argento l'argento esatto era molto interessante quello di cui mi hai parlato per questo che avevo catturato anche l'attenzione visto che sono già le sei e mezza e mi piacerebbe lasciare chiaramente al nostro pubblico al di là dell'opportunità di prendere uno spunto e quindi di immaginare come colorare e come adornare la propria tavola sia nel periodo di quarantena sia per la Pasqua in arrivo ma l'importanza come mi spiegavi tu invece dell'argento perché io nel presentarti ho parlato sia dell'argento colloidale ma sia dell'argento in generale ci racconti qualcosa allora sì sì beh l'argento innanzitutto non uscirà mai è questo metallo insieme al rame all'oro dalla dalla vita dell'uomo pensa ti racconto questa cosa che non c'è nessun re persiano che avrebbe mai bevuto acqua che non fosse stata trasportata in contenitori d'argento dai perché assolutamente questo è storia potete andare se volete vi vi dico anche dove andare a trovare queste sì 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 ma non so i pionieri americani alla conquista dell'west ok loro non avevano contenitori d'argento ma era loro abitudine mettere una moneta d'argento nel loro contenitore d'acqua perché solo così l'acqua si sarebbe mantenuta quindi amici ritiriamo fuori tutto allora l'argento è sempre stato utilizzato per la cura di varie malattie naturalmente è stato sempre utilizzato in modo come dire empirico ed era un utilizzo che si tramandava di madre a figlia loro non sapevano per quale motivo l'argento curasse tante malattie ma i risultati erano evidenti e quindi hanno continuato a utilizzarli guarda io ti dico io ho avuto tre figli li ho allattati tutti e tre e quando per tanto tempo avevo le ragadi sul capezzolo io mettevo mio figlio ha vent'anni ok io ho messo un cucchiaino d'argento questo perché era innanzitutto l'argento è un antibatterico un antifungicida un antivirale quindi ha veramente delle grandi eh proprietà eh curative con il tempo poi scopro che avevano addirittura eh messo in commercio il paracapezzolo d'argento infatti ti volevo dire perché io ho una mia amica che appunto proprio qualche mese prima a gennaio che iniziasse questo terribile momento eh ha partorito ho avuto un bellissimo bambino che rispetto alla bimba gli ha causato delle ragadi terribili e ho visto ciao Federica benvenuta e ho visto eh che la mamma le ha comprato questi mhm copricapezzoli proprio in argento quindi mi stai dando anche la motivazione esatto e pensa che hai batterico e cicatrizzante giusto? assolutamente sì 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 è un ottimo antibiotico a largo spettro ok e eh non solo ai bambini visto che hai menzionato il bambino piccolo eh un tempo era diciamo eh tradizione regalare il cucchiaio d'argento oppure le tre posatine col bicchiere e uno dice perché eh ti auguro eh ricchezza ok ma la ricchezza non era una ricchezza materiale era una ricchezza di salute di benessere perché perché tutto quello che passa all'interno dell'argento viene eh batteriologicamente insomma quindi fammi capire una cosa perché eh sai io sono una persona attenta e anche molto curiosa da quello che mi stai raccontando quindi mi viene in mente di chiederti ma quindi nel passato quando eh dai persiani voglio dire a quello che può essere stata eh a proposito di mise en place eh tutta la corte francese o piuttosto chiaramente nel nostro rinascimento quindi nei periodi eh di grande ricchezza no dove quindi si vedevano queste tavole addobbate che sono state anche chiaramente rappresentate più volte dai pittori il fatto di continuare quindi a mangiare quindi sia a nutrirsi che a bere da eh usando quindi le posate in argento e i bicchieri in argento tu mi stai dicendo che comunque una parte di quell'argento quindi era curativo era curativo per loro infatti loro non morivano era la povera gente che poi moriva proprio perché metivo allora si dice che i nobili hanno il sangue blu ah perché perché veniva proprio tinto dall'argento l'argento poi loro avevano anche questo argento in passato non era eh diciamo rotto in nanoparticelle ok era più grosso e di conseguenza andava proprio davvero a colorare il la pelle di blu assolutamente quindi è da lì che arriva il sangue blu che cosa che cosa divertente spero che anche a voi questa curiosità a me è piaciuta moltissimo per esempio questa curiosità perché non si finisce mai di imparare ciao benvenuto non si finisce mai di imparare e quindi eh l'opportunità è quindi che se abbiamo a casa quindi in questo momento voglio dire ma soprattutto in questo momento di virus ecco dico quindi chi ha delle posate o comunque ehm dei bicchieri in argento è il momento di utilizzarlo anche nel quotidiano quindi non solo per Pasqua visto sempre sempre anche nel quotidiano io li uso sempre ma non solo eh magari se hanno anche un piccolo cucchiaino d'argento che è stato regalato come cadeau come bomboniera a un matrimonio lo potrebbero tirare fuori e metterlo in una caraffa e far rimanere lì l'acqua in modo tale che l'acqua si si purifichi in quanto tempo si purifica mettendo un oggetto d'argento guarda io sai cosa faccio eh faccio questa metto l'acqua nella mia brocca e la metto la sera e poi la beviamo la mattina ok tutto il giorno quindi invece rispetto al fatto perché io ricordo quando ero piccola eh e devo dire che non ho un bellissimo ricordo perché ovviamente ero piccola e non ne avevo voglia ma quando mia madre tirava fuori l'argenteria in ogni tot tempo soprattutto se non la usavi diventava scura e quindi dov'è di ripulirla invece quando uno utilizza il bicchiere o le posate in argento nel quotidiano dobbiamo fare una particolare attenzione nel pulirli per riutilizzarli o basta lavarle normalmente no allora io li lavo normalmente però si accorgeranno che più si usa e meno si sporca un po' io trovo che sia la bellezza ma a me piace pulire l'argento no no quindi dico l'argento quindi comunque va pulito l'argento va sempre con i prodotti apposta per l'argento se no invece puoi metterlo per farlo molto velocemente in un tegame di alluminio poi metti non so le posate fai bollire l'acqua l'acqua rovesci l'acqua su questo recipiente e poi ci metti il bicarbonato e le posate diventano pulitissime ecco quindi voglio dire per esempio io se penso che devo pulirli che ne so con un dico sidor perché è quello che conosco e poi bere non lo so mi fa mi lascia un attimino un po' questo è un metodo naturale acqua caldissima in un recipiente però deve essere di alluminio quindi sai anche le vaschette quelle proprio di alluminio io utilizzo quella si mettono lì avete capito i consigli di acqua calda e bicarbonato esatto 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 bene io i miei fili li curo con l'argento colloidale Valeria questa invece è l'ultima informazione mi raccomando amici che siete in ascolto ehm c'è Stefano che ci chiede quelle da forno Marilena intendi sì 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 assolutamente sì 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 quelle che si comprono a supermercato che uno ci fa la che ne so la pasta al forno cosa che si mette dentro ci proviamo eh questo weekend ci proviamo acqua bollentissima poi il bicarbonato lì si lascia a mollo e vengono veramente molto molto pulite quindi bene alla salute bello alla vista e in più riscopriamo magari degli oggetti che chissà quanto tempo fa ci hanno regalato e che di solito utilizziamo appunto solo a Pasqua e Natale quindi invece in questo momento è fondamentale perché l'argento ci aiuta a stare meglio esatto e infatti l'ultimo argomento che volevo affrontare con te visto che adesso ci manca l'ultimo quarto d'ora ma è qualcosa che mi ha appassionato nel sentirlo e quindi vorrei che ce lo spiegassi è il fatto che tu ti stai autocurando e stai curando la tua famiglia con l'argento colloidale esatto esatto avendo questo prodotto che è praticamente questo argento è rosso in nanoparticelle ok il compito dell'argento di questo argento colloidale è quello di andare a soffocare praticamente le cellule di virus e batteri e agisce su larga scala io non ho mai dato antibiotici a mia figlia di otto anni che ha otto anni allegra grazie a dio non ha mai avuto bisogno di antibiotici ma lei non li ha mai presi anzi lei mi dice mamma non sto bene prendo l'argento colloidale invece il grande e la piccola per una volta nella loro vita quindi il ventenne una volta e Rebecca era stata morsicata dal cane gli abbiamo dato la copertura antibiotica classica che vomitava quindi se io non avesse avuto l'argento colloidale non so che cosa sarebbe successo abbiamo anche cambiato nel frattempo l'antibiotico però lei non riusciva insomma ad assimilarlo e quindi lo vomitava quindi io utilizzo l'argento colloidale proprio come antibiotico e antivirale Stefano ci chiede quindi mi precede dove si acquista questo argento colloidale? Si acquista in farmacia si acquista in farmacia io lo acquisto alla farmacia Graziani adesso vabbè facciamo un po' di pubblicità però loro hanno scritto anche un libro che si intitola proprio l'argento colloidale quindi questo libro si riesce anche a trovare voglio dire Assolutamente si e ha un costo di 6 euro e vi si apre un mondo vi si apre veramente un mondo Quindi ripetiamo il titolo del libro? L'argento colloidale guarda sai che ce l'ho qua? Aspetta eh Grande! Ciao Eri, benvenuta! 5,90 euro L'argento colloidale perfetto Allora ti chiederò poi, visto che poi ho l'abitudine di mettere qualche informazione in più, no? Quando metto poi sul canale YouTube di Vormakeup tutte le puntate Inserirò anche all'interno dello script l'opportunità per chi lo volesse acquistare Come si chiama il libro? Quindi basta mi fai uno screenshot e io poi lo inserisco al canale YouTube Assolutamente, esatto E loro spediscono anche questo prodotto Quindi voi potete fare anche l'ordine online e vi arriva a casa Io l'avevo finito e siccome noi tutti a 5, 3 volte al giorno lo prendiamo proprio per tutelarci Quindi ci fai capire bene Marilena? Sono delle gocce, cioè tu vedi un flaconcino Ok Ok, con una pipetta Prendete la pipetta, mettete sotto la lingua e questo è tutto Lontano dai pasti, vicino ai pasti? Io lo prendo sempre lontano dai pasti Ma io ti dico, ti racconto quello che è successo in questi giorni Mio figlio arriva che ha una parte congiuntivite Ok, innanzitutto un po' spaventata perché lui sta andando ad aiutare il mio marito Ed è uno infatti, esatto Sì, ma forse è lo 0,5% Ok, morale che naturalmente aveva solo quel sintomo Comunque compro lo stesso 20 euro di collirio antibiotico da mettergli E poi mi viene in mente e dico, no Nicola guarda, vai e ti metto il cucchiaino Gli ho messo praticamente due cucchiaini sugli occhi Poi sai le maschere da bellezza tipo la Audrey Hepburn Sua sorella ce l'aveva e le abbiamo messa su Sai che nel giro di pochissime ore si è decongestionata ed è passata l'infiammazione? Quindi non avevo bisogno di mettere, ne so, il classico Che l'ho sulla mentola, 0 L'ho acquistato perché insomma comunque l'ho acquistato Non sapevo cosa avesse Però sta di fatto che mio figlio dice Mamma ma stessi qua, dico guarda le ragadi che tu mi hai fatto Io le curavo così E sta di fatto che io ve lo giuro È guarito Ma anche nelle piaghe da decupito Quindi fino a volte al giorno noi possiamo ingerire una pipetta di argento colloidale E questo è un metodo che chiaramente ci procura del benessere e ci protegge Sì sì ma è anche curativo assolutamente Contro sia i batteri che i virus Senti adesso mi viene invece una domanda Ma io per esempio che sono una grande appassionata dell'argento E nei miei viaggi soprattutto chiaramente quando vado nei paesi arabi Dalla Giordania ad andare giù Dove chiaramente trovo dell'argento meraviglioso Dalle cavigliere alle polsiere A quelli che sono in giro colle Sai proprio quelli La regina proprio tipo donna giraffa Io sono piena di queste robe qui Perché poi tra l'altro le utilizzo anche per il mio lavoro Quindi anche indossare ogni giorno Qualcosa di argento Che può essere che ti posso dire L'orecchino, l'anello, l'ombracciale Qualcosa che mettiamo giornalmente Anche quello fa qualcosa? No 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 Farebbe qualcosa se tu lo mettessi Lo so Se in questi viaggi che tu fai L'acqua non ti convince molto Prendi quell'argento Mettilo nell'acqua E così ti curi Però no Quindi è proprio i metalli Quindi è proprio l'argento Allora Esattamente Si può acquistare online Ciao Ciao Minuzza Benvenuta Chiaramente ci sono molte truccatrici In linea E trovo che questa cosa che ci hai raccontato È molto 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 interessante Anche perché ti devo dire Io per esempio che Adesso mi viene in mente Anche infatti forse un'ultima domanda Che riesco a farti Quindi Io per esempio che sono magra Sono comunque una morfologia magra E quando faccio sport Soprattutto quando faccio la parte Diciamo degli addominali Nel tappetino Alle volte ho problema Nell'alzare la schiena Che proprio nella parte proprio ultima La parte lombare A volte posso crearmi Un fastidioso alzarsi Proprio un po' la pelle Cioè mi irrito Sì 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 E mi ricordo che il mio medico Mi aveva consigliato Proprio una Non era una pomata Era proprio argento Quindi una forma di argento Che cicatrizzava E devo dire che infatti Senza mettere Ne so cortisone Piuttosto che altre cose In tre giorni È scomparso E ormai lo uso Con una certa frequenza Guarda Usalo Io ti dico Io quando Hi Landy Io lo consiglio anche Alle persone che hanno Ad esempio Piaghe da decupito Piuttosto che Cicatrici L'argento Lì il cucchiaino Davvero va a messo Guarda Stefano mi sta facendo Una domanda interessante Che ti rigiro Ma se qualcuno È allergico all'argento Come anelli Collani eccetera Pure con questo prodotto Crea problemi Cioè se uno è allergico Nell'indossare l'argento Il prenderlo Può creare lo stesso No 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 Non penso proprio Assolutamente No 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 È una cosa Completamente diversa Anche questo Molto 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 interessante Però il libro Secondo me Io lo consiglio Veramente a tutti Perché vi apre Un mondo Pensa che Un tempo C'erano anche I fili di sutura D'argento I primi fili Erano D'argento Cioè quindi davvero Inondavano assolutamente Problemi Anzi E immagino che non siano Cambiati per qualcosa Di meglio No dai Abbiamo comunque Prodotti lo stesso Buoni Il grosso problema È che L'argento Non si può Brevettare Perché è presente È un metallo Presente in natura E Insomma Ci sono Diversi interessi Però secondo me Manca proprio La cultura Davvero Di queste cose Stefano ci chiede Il libro Dove si acquista Cioè lo troviamo Anche online Secondo te Lo trovate Anche online Non lo so Se c'è la Amazon Ed è di macro edizioni Però L'autore Quindi diciamo Quanto meno Alle persone In questi ultimi minuti Allora Ripetiamo il titolo Diamo la casa editrice E l'autore Così chi vuole Si può segnare Allora Graziani Che è la stessa farmacia Il libro è questo Ok Chiederò Un qualcosa No Non è vero Però Che nessuno pensi Anzi Che io lo sto Pubblicizzando Lo sto davvero Pubblicizzando Perché è un prodotto Validissimo E secondo me Bisogna veramente Prenderne atto Che la natura Ci mette a disposizione Dei grandi strumenti Sia dal cibo Ok Che anche Da questi metalli Pensa che Le persone nobili Avevano anche Le stoviglie d'oro Ma non mangiavano Con le stoviglie d'oro Perché non avevano Gli stessi benefici Curativi Che avevano Con l'argento Brava Molto Molto interessante Ascolta Marilena Ormai Rimangono veramente Pochi minuti Però ti volevo Chiedere questo Visto che Oggi abbiamo parlato Di quelle che sono Una delle tue passioni Uno più delle tue passioni Quindi dalla mise en place A quello che è il ricamo A quello che è appunto L'arte del decorare E quant'altro Però appunto Nella presentazione Benvenuto Manuele Nella presentazione Che ho fatto di te Dicendo che appunto Sei comunque Osteopata Fisioterapista Quindi ti occupi Del benessere delle persone Mi piacerebbe Se Grazie a te Stefano Per essere stato con noi Mi piacerebbe Magari Invitarti In prossimo giro Next Tanto ormai Le persone ti conoscono Quando leggeranno Marilena Si ricollegheranno Magari dare Qualche consiglio Invece Durante il periodo Della quarantena Cosa possiamo fare Ciao Deborah Benvenuta Cosa possiamo fare Per persone Che magari Hanno qualche problema Alla schiena Io per esempio In questo momento In casa Sto facendo degli esercizi Ma mi rendo conto Che ho qualche difficoltà Rispetto a quando vado Nel mio centro Pilates Cranio sacrale E quant'altro Dove chiaramente Ho Sia una dimensione E uno spazio Differente Con degli strumenti Anche che posso utilizzare Ma ho anche una persona Che mi segue Quindi magari Dare qualche spunto Ti va a dare qualche spunto Semplice Di esercizi Che si possono fare a casa In questo periodo Per stare meglio Proprio anche come postura Perché ritengo Che oltre all'alimentazione Oltre all'essere Good vibes Oltre ad alimentarci In maniera sana Il corpo è una macchina In questo momento Ovviamente è una macchina Che non sta girando Come girava prima E ritengo che oltre me Molte persone In questo momento Chi si lamenta Che ha preso più peso Chi si lamenta Che ha le articolazioni Che non sono più funzionali Nel giro di un mese Come erano prima Perché comunque Siamo fermi Siamo su una sedia Siamo sul divano Siamo a letto Sì è vero Che riusciamo a fare Magari Chi ha buona volontà Io cerco veramente Ogni giorno Di dedicare Almeno 45 minuti Al mio sport Però sarebbe interessante Avere da te Qualche consiglio Sì Possiamo organizzarla Volentieri Perfetto In più Stefano E sicuramente Qualcun altro Ha un'ultima domanda Dove pratica il suo lavoro Io ho problemi Ad una spalla Con calcificazione cronica Perché appunto Parlavamo prima Della farmacia Graziani Ma non abbiamo detto Dove tu abiti Dove tu stai No no Tra l'altro La farmacia Graziani Non è nella zona del Comasco Quindi è anche lontano da me Io abito Io ho lo studio A Ispra Sul Lago Maggiore In provincia di Varese Benissimo Quindi comunque Abbiamo detto Che ti possono seguire Come Centro Medico Macla Su Instagram Anche su Facebook Ti trovano come Centro Medico Macla Perfetto Quindi Se volete continuare A seguire Marilena E comunque appunto Farle qualche altra domanda Qualche altra cosa La potete seguire Ricordatevi Sia Facebook Che Instagram Come Centro Medico Macla Dopodiché Potete rivedere O comunque Se avete trovato interessante Quello di cui abbiamo parlato E volete farlo Rivedere a qualcuno Che magari appunto Si vuole documentare Sull'argento colloidale Quindi tutta la parte Importante Che l'argento Ha come funzione Da domani Troverete sul canale YouTube E quindi poi Anche rimesso Sul mio profilo Facebook La puntata di oggi Del Bortalking Io Marilena Ti ringrazio Ringrazio Io te Grazie mille Ti auguro Un splendido Weekend In casa Ricordiamo adesso A tutti i nostri amici Che dobbiamo Continuare A stare In casa E Stefano Dice che Ti contatterà Su Instagram In privato Se è possibile Immaginasi Va bene Va bene Ok Grazie mille Grazie a tutti Buona Pasqua Grazie a te E buona serata Grazie La bellezza Fa bene All'anima E la bellezza È salute Perché un corpo Armonioso È sinonimo Di salute Esattamente Esattamente Grazie per le tue Belle parole Ciao Grazie a te Animo nobile E grazie per i consigli Che ci hai dato Grazie Valeria Ciao 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 Mari Grazie Bene Io non so voi Ma ho trovato Veramente Molto Molto Interessante Quello che ci ha raccontato Oggi La dottoressa Russo Bene Stefano Sono molto contenta Vedi perché Sova ieri abbiamo imparato A conoscerci In un ambiente Un pochino più ludico Insieme a Francesca Giuliano Sono contenta invece Che stai continuando A seguire le mie dirette Domani Se sei interessato Vi dico di che cosa Parliamo domani Negli ultimi due minuti Che mi rimangono Domani Ospite Barbara Krishman Fondatrice Del calendario Delle Beautiful Curvy Giornalista Che avevo già invitato In una delle mie puntate Ma domani Riparliamo di nuovo Di bellezze Anche un po' più in carne E quindi Continuiamo a vederci Anche domani Io vi abbraccio Vi saluto E vi ricordo Mi raccomando Stay angry Stay foolish Un bacio Un po' più in carne Un po' più in carne Un po' più in carne